ciao sono bruno di segema oggi vi parlo della problematica dello stat incastrato sempre attivo sulle centrali di comando per cancelli ti ricordo come sempre di iscriverti al nostro canale mettere mi piace sotto cliccare sulla campanella per rimanere aggiornato su tutti i nostri nuovi video attenzione come non mai questo è un video professional questo significa che ciò che dirò nel video deve essere fatto solamente da tecnici specializzati il problema è abbastanza comune ma la risoluzione va fatta solamente da personale specializzato allora il problema è questo qui hai mai trovato su una centrale di comando lo start incastrato cioè la diagnostica che segna per dire st se ha un display oppure il led acceso dello start se la diagnostica è a led come è risolto staccando i fili in ingresso allo start o allo open dipende da come la centralina chiama questo ingresso tutto si è ripristinato oppure nei casi più gravi purtroppo la centrale che si è guastata e l'hai dovuta sostituire questo avviene normalmente quando i fili del scidofono arrivano alla centrale hanno una lunghezza abbastanza importante che soprattutto viaggiano insieme altri fili di corrente quello che succede è un fenomeno elettrico il filo comincia a far passare delle correnti indotte e quindi arriva una corrente abbastanza elevata elevata per la centralina in ingresso che fa sì che la centralina veda come se ci fosse qualcuno con il pulsante premuto costantemente e quindi ha un ingresso di start incastrato quindi alcune centraline fanno rimanere il cancello aperto altre non lo fanno muovere per niente però il problema è un malfunzionamento allora come si può ovviare questa cosa in una maniera molto semplice devi disaccoppiare il pulsante del citofono anche se è un pulsante pulito mettendo un relè tra il pulsante e l'ingresso di start quindi tu con il pulsante del citofono comanderai la bobina di un relè che non subisce questa problematica perché la bobina fisica di un relè è molto più forte rispetto all'ingresso della centralina una volta disaccoppiato il contatto del relè lo vai a collegare allo start della centralina in questo modo tutto ciò che succede prima del relè non influisce sulla centrale di comando questa è una regola buona anche da fare su una nuova installazione perché magari all'inizio va tutto bene perché il cavo che hai messo è nuovo e funziona tutto correttamente negli anni magari si può presentare questo problema disaccoppiandolo con un relè invece il problema non accadrà mai allora non ti spiego come si fa il circuitino elettrico perché è molto semplice e lo faccio apposta proprio perché questo problema deve essere risolto da un tecnico perché bisogna mettere i mali sia sulla parte del citofono che sulla centralina e si possono creare veramente dei danni importanti però disaccoppiare un contatto è un'operazione che un tecnico fa giornalmente quindi la sa fare correttamente allora in questo video non abbiamo presentato nessun prodotto abbiamo preso spunto da un paio di segnalazioni che ci hanno fatto dei nostri clienti e quindi puoi utilizzarlo e speriamo che ti sia utile ti ricordo di mettere i miei piace sotto iscriviti al canale clicca sulla campanella e se hai bisogno e sei un tecnico di informazioni visita il nostro sito shop segema.it dove trovi i prodotti professional rivolti al settore oppure se sei nella zona di roma puoi venirci a trovare in via quarto sant'antonio 48 a marino siamo sull'abbia dopo l'aeroporto di ciampino ciao al prossimo video